Buongiorno a tutti prima lezione della ginnastica in venese che è la ginnastica in venese che è la fitness in italiano inglese. Forse facciamo ancora in questi dieci minuti. Quindi facciamo tra la girala e braccio. Quindi mesciamo le braccio. Mesciamo le braccio davanti, mesciamo le braccio, le regno, la schiena. Quindi facciamo tutto quello che serve per allenare tutta questa parte che dà, le braccio. Cominciamo a scadarci un attimo, così per lo meno non si ferma. Va bene? Ok. Chi ha su brazzo? Chi ha su brazzo? O sinistro, o grito. Bele. La mancha testa, parvo e servo, parvo e servo, parvo e servo, parvo e servo. Cambio la mano, via. Argo e servo, argo e servo, argo e servo. Cinque, quattro, tre, ui, ui, ui. Bene. Va bene. Veniamo a chupere e come fare di ginnastica? Bene. Qualche giro a un modo e qualche giro a lato. Vero. Vero, via, 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 via. Vestima, vado. Vereda. Vero. Chegiamo a scadar. Andiamo su. E cerchiamo da lato con il pavimento. Zù. 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 Olè. Dai piedi. Dai piedi. Cinque. 3, 2, 1, benissimo, stiamo girando, olè, benissimo, e poi giriamo la quarta, va bene, ora, già un po' di denunce, oh, siamo chiara prima nessuno di venezia, nessuno di ginnastica di venezia, olè, benissimo, ora, cominciamo, senti la denunce, allora, siamo usciti per la denunce e animusui, in italiano se facciamo piegamenti sulle braccia, in inglese push up, in genovese e flash in, giù, 1, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, la prossimo un attimo, 3 volte da 10, la prossimo un attimo, esageriamo, inizio, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, lo, 10, il secondo giro è finito, possiamo sentare, quante, vediamoci 30 seguni, tra in giro e l'altro, va bene, va bene, ma fermo, ma un po' nota, va un po' in giro, ultimo, fermo, 4, 6, 8, Un po' in giro, la scornare, il funziona l'organizzazione, perché viene un po' il show, va bene, qua ci sono? Conciremo pure, passa a terra, quindi s'acplendiamo pure, cosa ci sono? andiamo sui gumi e poi e ma vanno avanti e vanno avanti e vanno avanti e vanno avanti 10 sui a mio terra allora pronti olè vanno 1 5 beggi arriviamo a 15 e 15 bene posso essere emocionato va bene questo allora prima abbiamo fatto un po' ciò e brasse e davanti un po' di petto e poi mentre questo lo ciò è a schiena quindi sempre mesciamo le brasse ma sentiamo un po' di chi lecce a schiena altri 15 eh? via! e' un po' così quale espressione un po' così che abbiamo visto c'è 5 e' un attimo eh? un attimo della sciocca 30 secondi perché sono lunghiamo bene eh? 60 le brasse eh? 60 le brasse 60 99 le brasse 60 le brasse 60 le brasse 50 le brasse 60 le brasse dry Ancun 5 e 15, bene, prima siamo stati freschi e abbiamo fatto 3 volte da 10 con 30 secondi tra un blocco da 10 e un altro blocco da 10, quindi abbiamo fatto 3 volte da 15 e abbiamo spungato i bracci in avanti con il passo alla terra, benissimo, ok? In inglese, va bene, va bene, in inglese, ora, questo è il tempo, faremo su, diamo su il pane e diamo su prima il brazzo e poi l'altro brazzo, va bene? Quindi diamo su 5 volte il brazzo e poi diamo su 5 volte l'altro brazzo, va bene? Un pane deve essere bello sciuto, va bene? Qui, e, via, ole, 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 4, 6, 8, 10, benissimo, un attimo, figgiamo un attimo un po' di scioglie, un attimo, Bene, 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 bene 10 benissimo, un secondo giro andiamo a finire ancora un taglia, 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 taglia due mollo pronti? ultimo giro andiamo e siamo a 4 siamo a 6 8 e bene 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 ora siamo l'urteno e abbiamo un turno un po' a flash swing però i gumi sono belli stretti va bene e fermo solo 3 volte da 5 ripeti swing va bene allora andiamo 1 2 3 4 5 via 1 2 3 4 5 6 ok 1 ok di va e 1 2 3 4 5 5 la prima lezione della gynastica è finita deve piacere un'idea vi ringrazio e saluto 1 1 2 1 2